Buon pomeriggio a tutti, benvenuti a questo webinar organizzato da Corteva in collaborazione con l'informatore agrario. Siamo qui in studio oggi a parlare di viticoltura, di difesa della vite, parleremo appunto di difesa a 360 gradi, non ci limiteremo a parlare di una sola malattia ma parleremo di peronospora, oggi di oidio e dei principali insetti che infestano il vigneto. Qui in studio con me abbiamo quattro diversi ospiti, abbiamo Enrico Marchesini di Agrea, Davide Vitali di Corteva, Gabriele Posenato sempre di Agrea e Andrea Angeli di Corteva. Appunto questa qui sarà un incontro dedicato per capire quelle che possono essere le criticità della difesa della vite, ci stiamo approssimando all'inizio della campagna, quindi è giusto partire con il piede giusto, ovvero cercare di capire quelle che possono essere le criticità che durante la campagna il viticoltore si trova ad affrontare, cercando di valutare quelle che possono essere poi le soluzioni per una corretta gestione del vigneto. La corretta gestione parte sicuramente dalla conoscenza di quelle che sono le criticità per poi passare all'innovazione che serve per la gestione. Tutto questo può avvenire solo attraverso la flessibilità, una flessibilità che ci permette di lavorare correttamente nel vigneto per gestire un prodotto di qualità in un'ottica sostenibile. Enrico Marchesini, il nostro primo relatore di Agrea, entrerà nel dettaglio per quanto riguarda la parte degli insetti. Volevo ricordare una cosa sola, questo incontro è stato accreditato sia dai dottori agronomi che dai periti agrari e per la richiesta dei crediti basterà registrarsi sulla piattaforma nazionale. Enrico Marchesini, a te l'incarico di cercare di entrare un po' su quelle che sono le problematiche legate agli insetti della vite. Parliamo di tignole, non solo le tignole, quelle conosciute, le classiche, tignoletta e tignola, ma anche quelle di più recente introduzione. Però non ci limiteremo alle tignole, parleremo anche di idrosofila Suzuki che è stata recentemente introdotta sul territorio nazionale e che sta diventando un problema anche per quanto riguarda la gestione del vigneto. Enrico, a te la parola, facci un quadro di quella che è la situazione, so che ci presenterai anche qualche video che sono molto apprezzati. Buon pomeriggio a tutti, anche da parte mia, ben arrivati a questo incontro. Ringrazio Corteva per l'invito che ci ha fatto, così come l'informatore agrario. Il mio compito sarà quello di concentrarmi un attimo sui carpofagi della vite. In due in particolare, le tignole, diverse specie che fanno parte dell'ordine dei lepidotteri e anche la drosofila Suzuki che in questi ultimi anni sta diventando un problema che invece ha un insetto completamente diverso perché stiamo parlando di ditteri in questo caso. Entrambi fanno un danno diretto, diretto al grappolo, agli acini, ma anche fanno dei danni indiretti perché aprono la via, per così dire, allo sviluppo di botrite ma anche di marciume acido. Sicuramente tra le specie di tignole, nell'ambito della viticultura, la tignoletta della vite, l'alobesia botrana, è la specie più diffusa e più importante in molti areali della viticultura della nostra penisola e quindi iniziamo proprio da questa specie. Resta sempre valido come strumento di monitoraggio le trappole a feromoni sessuali per valutare l'andamento dei voli in quanto abbiamo la possibilità di catturare i maschi adulti. Qui possiamo vedere in questi grafici l'andamento delle catture in sette anni, dal 2014 al 2020, nella nostra areale del Veneto in questo specifico caso. Volevo farvele vedere perché si vede già in questo grafico come in realtà i picchi di volo dei maschi adulti di tignoletta della vite non siano tre ma sono quattro. Il quarto picco si sviluppa a partire dai primi di settembre in poi. Si tratta in realtà di un quarto volo che in molti casi corrisponde a una quarta generazione. Certi anni è una quarta generazione completa, in altri casi è parziale, dipende un po' dall'andamento stagionale, però come vedete è una generazione che va a interessare solo le varietà tardive tendenzialmente, cioè quelle che maturano in settembre. Ecco, ci possiamo fare una domanda, ma come variano negli anni i livelli di attacco a parità di condizioni? Guardate questi dati di un certo interesse, qui siamo nello stesso vigneto, un non trattato, sempre quello, lo stesso filare, lo stesso metodo di rilievo sulla tignoletta di seconda generazione. Vedete i dati espressi sia come percentuale di grappoli colpiti che come numero di larve per grappolo e vedete che c'è una variabilità annuale, c'è una variabilità annuale nonostante il resto delle condizioni, rimanga quello. E ci chiediamo, ma c'è relazione tra l'intensità delle catture con le trappole e il livello di attacco? Perché uno potrebbe pensare, catturo tanti maschi adulti nelle trappole, ci sarà anche tanto danno su questa generazione in questa annata. E come vedete da questi dati, no, è una conferma di dati storici. Diciamo che non esiste una correlazione diretta, la retta di regressione non è significativa tra il numero di catture e il livello di attacco. Perché? Perché in realtà ci sono tifattori che vanno a incidere sulla popolazione larvale, sul sviluppo delle larve, come per esempio il clima, l'andamento climatico, ma anche i limitatori naturali e quindi bisogna tenere conto. Guardate per esempio cosa è successo nel 2019, qui vediamo l'andamento dei voli degli adulti, l'ovide posizione, vedete ai 4 voli corrisponde 4 momenti di ovide posizione, vedete gli istogrammi in rosso e poi lo sviluppo larvale e lo sviluppo delle crisalidi. Ma se ricordate, credo che molti di voi possano ricordarlo, fine aprile-maggio è stato nel 2019 un anno particolare, perché è molto piovoso, con abbassamenti delle temperature, soprattutto crepuscolari. Questo, guardate, ha inciso molto sullo sviluppo della prima generazione, perché ha ritardato le ovide posizioni di più di una settimana. Poi in realtà in giugno le temperature si sono riprese, quindi diciamo c'è stato un recupero da parte di questa tignoletta nello sviluppo, ma è stato così l'andamento. Guardiamo invece nel 2020, la scorsa stagione, una prima generazione importante nel volo, ma anche nelle ovide posizioni, una seconda nelle ovide posizioni ancora più importante, mentre la terza generazione è stata in molti ambienti piuttosto contenuta. E questo perché l'andamento climatico ha sempre influito su questo sviluppo, qui vedete lo sviluppo delle larve e poi quello delle crisalidi. Però anche in questo caso vedete che i periodi sono quattro. Quindi questo è un adattamento di questo tortricide alle cambiamenti climatici, all'aumento delle temperature. Un aspetto molto importante che interessa gli insetti, perché? Perché gli insetti sono degli animali pecilotermi, cioè il loro sviluppo è strettamente legato alle sommatorie termiche e quindi non sono animali a sangue caldo, ma come si dice, più normalmente a sangue freddo. Noi possiamo avere anche altri strumenti che ci possono aiutare nello studio in campo di questo insetto, di questo carpofago così importante, come per esempio i modelli matematici, i modelli di previsione che si basano sulla biologia della specie, sui dati di monitoraggio in campo, sui dati meteo validati. Li facciamo girare attraverso un modello matematico che questo ci sputa fuori dei risultati legati a dei modelli temporali o anche se ci servono certe volte per altri tipi di specie, di modelli spazio-temporali. E questo guardate è l'algoritmo, è l'equazione matematica che sta alla base dei modelli matematici per la tignoletta della vite, che simulano quello che avviene in campo e ci dice come l'ambiente può influire sullo sviluppo di un insetto come la tignoletta della vite. E quindi abbiamo una certa sincronia tra quello che succede davvero in campo e quello che il modello ci propone. Ecco, la prima generazione di tignoletta, abbiamo visto ne fa tre o quattro, la prima è quella che si sviluppa sui bottoni fiorali, si chiama anche generazione antofaga. Qui possiamo vedere in questo video una larva di prima età, vedete sui bottoni fiorali, comincia questa larva anche a alimentarsi col suo apparato boccale pungente e succhiante, abbiamo lo sviluppo di questa larva e passiamo a una larva di seconda età, vedete? E poi successivamente l'età larvali sono 5 prima di arrivare alla crisalide e quindi ogni passaggio comporta una muta, vale a dire questa larva, questo stadio genonide deve perdere lo scheletro esterno per costruirsene uno di più grandi per potersi poi sviluppare e diventare una larva adulta. Quando questa larva adulta completa lo sviluppo, guardate, con le ghiandole sericipere produce, vedete questi fili serici, si costruisce questo bozzolo e all'interno di questo bozzolo la larva matura si incrisalida per poi dare origine alle adulti di seconda generazione. La seconda generazione è la generazione più importante direi in assoluto, perché? Perché è quella che va a colpire gli acini verdi in fase di aumento e quindi danni diretti sull'acino e sono danni diretti alla produzione, ma dicevamo prima anche danni indiretti perché queste rosure aprono la via allo sviluppo di funghi come la botrite ma anche di batteri acetici. E qui poi passiamo alla terza generazione, che non è una generazione da meno, guardate che ultimamente in questi ultimi anni la terza generazione comincia a diventare importante, come vediamo in questo caso per esempio, qui vediamo una femmina che sta sulla visitazione, qui sta addirittura ovide ponendo sull'acino, su questa femmina vedete è un acino già invaiato, già colorato, ma vedete tutta una serie di uova deposte su questo acino. La cosa importante certe volte è in campo segnare questi acini come vedete, perché? Perché è importante andare a seguire lo sviluppo embrionale, da un uovo lattiginoso si sviluppa poi un uovo che ha un'altra caratteristica, ecco vedete i due puntini, l'occhio visibile, da questo poi la larva che si vede già all'interno con l'uovo testa nera e infine abbiamo un passaggio molto importante che è questo, cioè quello che riguarda vedete la schiusura dell'uovo, perché la schiusura dell'uovo è un momento importante la schiusura dell'uovo, in quanto è lì dove si ha, diciamo così, molti insetticidi vanno applicati proprio in questa fase, vedete la nascita della larva, una larva debole, una larva che appena uscita dall'uovo può incontrare per esempio delle spinosine o un bacillus thuringiensis e quindi alimentandosi di questi prodotti è in grado di morire e viene meno, diciamo così, prima che cominci a fare danno, quindi a erodere l'acino e aprire la via allo sviluppo di altri funghi, di altre problematiche patogeni, diciamo così e quindi questo è un momento importante perché è un momento in cui molti insetticidi devono essere applicati, seguire lo sviluppo larvale e seguire cosa avviene è molto importante in questa fase. Successivamente possiamo dire che la tignolita, la lobese botrania non è sicuramente l'unico tignola importante, abbiamo anche la tignola, leopuicilia ambigüella, la eulia che in certi casi può dare un problema, eppure abbiamo anche dei lepidotteri ficitini che sono, diciamo, considerati di carpofagi secondari ma che possono essere anche di un certo rilievo, qui vedete la differenza tra gli adulti, ma anche la larva molto importante perché, allora guardate, la larva di tignoletta ha una capsula cefalica che è bruna, la placca protoracica che è quella appena dietro è bordata posteriormente di più scuro, mentre la tignola ha un capo completamente scuro, mentre le eulia, vedete, è un verde molto chiaro, mentre i ficitini, in particolare le festia, hanno la placca protoracica che è completamente scura, anche il danno, così pure come le crisalidi sono diverse, insomma abbiamo tutta una serie di parametri che anche in campo possiamo utilizzare per identificare di che problematiche stiamo parlando. Qui vedete la tignola della vite, vedete che ci sono aree in cui convive la tignola con la tignoletta e qui vediamo un altro carpofago considerato secondario come per esempio i ficitini, i quali compaiono nei vigneti da agosto in poi. Una delle specie più importanti in assoluto è l'efestia unicororella vuliella, la quale passa l'inverno non come crisalide come fa la tignola e la tignoletta, ma passa l'inverno come larva matura e solo in primavera si trasforma in crisalide sotto la corteccia della vite per poi sfarfallare l'adulto in primavera avanzata. Ci sono diverse specie di efestia, ma anche di ectomyelois, che però possono dare dei problemi in corrispondenza della terza generazione di tignoletta. Quindi di solito i trattamenti che vengono fatti in considerazione sulla terza generazione possono essere validi anche per questi. Ecco, qui possiamo vedere una larva di efestia, vedete che il corpo è tutto a puntini neri, che è quello, questi puntini neri sono alla base delle setole di questa larva. Ecco, un'altra specie molto importante presente nelle regioni del centro-sud e nelle aree del litorale italiano è la tignola rigata, Cryptovables nidiella. Rigata perché? Perché la larva presenta proprio delle righe molto caratteristiche, è una specie molto polifaga. Guardate, colpisce più di 80 piante, sia erbace, arbustive, arbore, fa quattro generazioni all'anno ed è chiamata anche tignola delle melate perché ha un interessante commensalismo con la Planococcus ficus, che è la cocciniglia farinosa della vite che produce molta melata e le larve ne sono ghiotte. La differenza importante degli adulti, vedete, i maschi hanno dei processi a forma di corno sul terzo antenomero che ci aiutano a distinguerli, però i danni sono molto importanti perché l'attività trofica della larva che interessa i racchi dei pedicelli va a interrompere il flusso della linfa e causa un appassimento, un dissecamento completo del grappolo, per cui i danni in questi ultimi anni sono stati consistenti. L'altro carpofogo che ci dicevamo è la drosofila Suzuki, qui vedete una trappola alimentare, vedete un adulto con i due puntini sulle ali anteriori che sta entrando in questa drosotrap attivata con drosky drink, qui vedete la femmina caratterizzata da un ovopositore seghettato molto duro, l'uovo e le spiracoli tracheali che sono i due tubetti che permette all'uovo che ci sta all'interno dell'acino di respirare, un talissante meccanismo per permettere a questo uovo di sopravvivere all'interno dell'acino. Però ci sono anche, poi si sviluppano delle larve che danno dei danni nell'acino molto importanti certe volte, perché arrivano a bucare l'acino, l'acino produce anche delle gocce di essudato per cui si svuota l'acino e i danni che produce sulle uve, soprattutto tardive, sono danni importanti. Qui vediamo l'andamento dei voli in una trappola al bordo del vigneto e all'interno, vedete in prossimità della vendemmia le catture all'interno del vigneto aumentano in maniera consistente e le ovide posizioni quando avvengono? Appena prima della vendemmia, quando l'uva sta maturando ed è molto importante il monitoraggio sulle uova, perché questo ti permette di dire quando è che io devo fare un'applicazione con le spinosine per esempio, come faccio a saperlo? Il monitoraggio è fondamentale, non possiamo usare la fantasia qui, qui ci vogliono i dati in campo e quindi il monitoraggio sulle uova diventa fondamentale. Alle prime ovide posizioni, ecco che possiamo partire con la difesa. Qui vedete che i danni, i percentuali di grappoli colpiti sono variabili, ma possono essere anche di rilievo in alcune aree, la sensibilità varietale è diversa, quindi ogni varietà ha una sensibilità diversa una dall'altra, però abbiamo in viticoltura un vantaggio non da poco, perché i danni che Drosofila Suzuki provoca su uva non sono certamente quelli che provoca questo insetto sul ciliegio oppure sui piccoli frutti, perché questo? Guardate il dato, da 465 uova si sviluppano 53 larve, quindi l'11% e di questo 11% solo l'1% da origine adulti. Questo significa che l'ambiente acido all'interno dell'acino d'uva non è l'ottimale per questa specie, ma nonostante questo i danni sono importanti, quindi ci sono difesa agronomica come la gestione del cotico orboso in prossimità della vendemmia, tenere basso il cotico orboso, la potatura verde per liberare i grappoli, arieggiarli e quindi fare in modo che non ci siano delle condizioni per lo sviluppo di ombreggiatura, di fresco che sono quelle che permettono a questo insetto di svilupparsi. Naturalmente oltre a questa difesa agronomica bisogna integrarla con una difesa chimica. Io per il momento mi fermo qua, ma sono a disposizione per qualsiasi vostro chiarimento o approfondimento. Vi ringrazio della vostra attenzione. Grazie Enrico, grazie per averci illustrato quelle che sono i principali fitofagi, carpofagi della vite. Ci hai fatto veramente un'analisi molto dettagliata anche per il riconoscimento. Una parola chiave che ho capito è l'importanza che stanno avendo i cambiamenti climatici su anche l'entrata di nuovi parassiti e su anche il cambiamento del ciclo biologico di alcuni insetti. Hai anche anticipato qualcosa di difesa e proprio di difesa adesso parliamo con Davide Vitali. Diciamo che Davide è il responsabile marketing per quanto riguarda gli insetticidi e parleremo in particolare di un'innovazione, le spinosine. Le spinosine sono un prodotto nato dalla ricerca Corteva e appunto sono un prodotto altamente innovativo e permettono la gestione di diversi carpofagi. Quindi Davide ti chiedo di farci un po' un'analisi di quelle che sono le caratteristiche dei prodotti nel vostro catalogo e di quelle che sono poi il posizionamento dei prodotti. Ok, grazie Gian Antonio, grazie Enrico per la bella presentazione che mi ha preceduto. Io mi chiamo Davide Vitali e sono responsabile per gli insetticidi di Corteva Italia e appunto in questa presentazione vi parlo dell'impiego delle spinosine nel controllo delle tignole e di drosofila Suzuki. Quando parliamo di spinosine in Corteva parliamo in particolare di due prodotti Radian Pro e Laser che ora andremo a vedere nelle slide successive. Allora in questa che io amo chiamare carta di identità del prodotto vediamo Radian Pro. Radian Pro è un insetticida contenente 120 grammi litro di spinetoram in formulazione SC, è autorizzato sulla vite da vino e la vite da tavola e tra i parassiti controllati e presenti in etichetta abbiamo la tignoletta e la tignola della vite. Il dosaggio varia dai 200 e 300 ml per ettaro in funzione delle infestazioni del parassita. Attualmente abbiamo un trattamento consentito in etichetta ma siamo in attesa di ricevere a breve il secondo e speriamo entro la campagna di consumi e di utilizzo 2021. Sono solo sette i giorni di carenza su questo prodotto, sette giorni che sono molto utili per quei trattamenti che vanno fatti diciamo in prossimità della raccolta. Due sono le taglie che Corteva Italia Vende di Radian Pro la taglia da 1 litro e la taglia da 0,25 litri. Passiamo a laser. Laser è un insetticida contenente 480 grammi litri di spinosad autorizzato in agricoltura biologica. Culture autorizzate in etichetta abbiamo la vite da vino, la vite da tavola oltre altre decine di culture tra cui orticole e frutticole. Tra i parassiti controllati e presenti in etichetta abbiamo anche qua la tignoletta, la tignola ma abbiamo anche i tripidi, la metcalfa e la drosofila Suzuki. Il dosaggio varia dai 150 a 250 ml per ettaro in funzione del parassita e dell'infestazione. Tre in questo caso sono i trattamenti consentiti in etichetta e 15 giorni di carenza. Proponiamo in tre taglie laser nella taglia da mezzo litro, nella taglia da 0,25 litri e nella taglia da 100 ml. Ma ora parliamo un po' di spinosine. Allora diciamo che tutto è iniziato da spinosad che è un insetticida di derivazione naturale grazie a un batterio, a clinomicete, a saccaroprispola spinosa, il quale è stato identificato per la prima volta in un campione del terreno nel 1986 in America centrale. Ma che cosa significa saccaroprispola spinosa? Saccaro significa che si nutre di sostanze zuccherine, polispora che produce molte spore e spinosa che ha un aspetto appunto spinose. E una volta che viene moltiplicato produce per fermentazione 23 spinosine che hanno un'attività insetticida. Infatti vedete nell'immagine a destra la spinosina A e la spinosina D, le quali conferiscono anche il nome spinosa delle ultime due lettere diciamo del principio attivo sono determinate appunto da queste due spinosine. Spinosa quindi è un insetticida che è dotato di notevole efficacia ed ha ampio spettro d'azione, è registrato su molte culture e anche in molti paesi, ma presenta una degradazione abbastanza veloce dovuta alla sensibilità ai raggi ultravioletti che ne determinano quindi anche una breve persistenza di azione. Per questo motivo la ricerca di Corteva si è domandata se era possibile migliorare questo aspetto di spinosad. La risposta è sì, siamo stati capaci come Corteva, la ricerca di Corteva, a migliorare questo aspetto grazie alla stabilizzazione chimica delle spinosine J e della spinosina L, le quali hanno conferito una maggiore attività insetticida e una maggiore fotostabilità alla molecola di spinetoram, quindi appunto nasce spinetoram, il quale anche rispetto spinosad è attivo già a bassi dosaggi. Siamo nell'ordine di circa 4-5 volte meno di principio attivo per etero necessario per controllare gli insetti target. Il comportamento della pianta di spinetoram ma anche di spinosad hanno attività translaminare, vengono traslocati quindi prontamente all'interno dei tessuti vegetali e si spostano quindi dalla superficie trattata al mesofillo, come potete vedere nell'immagine della slide e agiscono sui target per contatto e per ingestione. Quindi ora andiamo a vedere nel dettaglio quelli che sono i target delle spinosine su vite. Innanzitutto il target di elezione sono i lepidotteri, ma abbiamo anche l'adrosofila Suzuki e i tripidi. Come abbiamo visto precedentemente sui lepidotteri sono registrati entrambi i formulati, il formulato di Radian Pro e laser, mentre su drosofila Suzuki e i tripidi e laseri il formulato avente questa registrazione. Quando è il momento opportuno, ma l'ha detto benissimo prima di me Enrico Marchesini, per fare il trattamento sui lepidotteri è il momento della schiusa delle uova, quello è il momento indicato per posizionare un trattamento con le spinosine. Se parliamo invece di idrosofila Suzuki, il momento ideoneo per fare il trattamento è all'inizio ovodeposizione, lì è il momento per poter posizionare un trattamento di laser. Quindi Spinetoram, solo per darvi un quadro completo di quello che è l'offerta di Corteva Italia per quanto riguarda Spinetoram, oltre al Radian Pro che abbiamo visto essere registrato per la cultura della vita da vino e la vita da tavola, abbiamo anche Exalt, formulato e registrato recentemente, studiato appositamente per le culture orticole. Inoltre abbiamo Delegate, che è sempre Spinetoram, dedicato alle culture frutticole. Quindi quali sono le caratteristiche salienti di Spinetoram? Sono quelle di essere efficace, di possedere una maggiore attività biologica nei confronti degli insetti target e avere anche una stabilità ai raggi ultravioletti, come detto prima, quindi avere una lunga durata di efficacia. Inoltre è una molecola che Spinetoram che penetra facilmente attraverso la cuticola degli insetti e inoltre, molto importante, ha anche un profilo residuale favorevole, aspetto non di secondaria importanza se parliamo di vite da tavola soprattutto. Quindi le Spinetoram e Spinosad, come abbiamo visto, hanno l'unico meccanismo di azione e sono stati classificati all'interno del gruppo 5 dell'IRAC. Detto questo, avendo quindi lo stesso meccanismo di azione, sono indispensabili alcuni accorgimenti per evitare l'insorgenza di resistenze. In particolare, la raccomandazione che facciamo sempre come corteva è quella di non superare le tre applicazioni che ne hanno con Spinetoram e Spinosad. Ma ora vi voglio mostrare alcuni dati sperimentali su Tignoletto della vita con Radiant Pro che rappresentano un po' quello che siamo abituati a vedere in campo con i trattamenti di Radiant. Qui vi faccio vedere il protocollo, siamo in località Ravenna, su varietà Merlot. Abbiamo quattro tesi. La prima tesi riguarda l'applicazione di Radiant a 0,3 litri per ettaro. L'epoca è quella della schiusura delle uova. La tesi 2 è uno standard di riferimento. La tesi 3 abbiamo invece una strategia Intrepid più Radiant. Intrepid è prodotto corteva, base di metossifenozide, è un MAC, quindi ha un'azione ovular vicida, quindi posizionato da posizione uova a 0,4 litri ettaro, poi ribattuto con Radiant sempre a 0,3. E poi tesi 4, una strategia con degli standard di riferimento. Andiamo a vedere quelli che sono i risultati di questa esperienza. Il rilievo è stato fatto sull'incidenza percentuale dei grappoli danneggiati a 31 giorni dal trattamento INA, quindi dal primo trattamento. Vedete che il testimone ha un'incidenza di grappoli danneggiati dell'83%. Solo 18,50% l'applicazione con Radiant, 54% lo standard di riferimento, 14% è l'incidenza della strategia corteva Intrepid più Radiant e 18% nella strategia concorrente con l'applicazione di prodotti standard. Quindi vediamo che sia Radiant fattoso solo che in strategia ha dato dei risultati significativamente importanti. Andiamo a vedere il programma di difesa su Tignole, siamo sulla seconda generazione. Il consiglio di Corteva è quello di applicare un intrepido, quindi una metosifenozide a deposizione uova, seguita e ribattuta da Radiant Pro a 300 ml per ettaro a schiusura uova e il trattamento sulla seconda generazione, oltre che a preservare gli acini dei danni delle larve in varietà medio tardive, permette anche di mantenere sotto controllo la generazione, la terza generazione. Se guardiamo invece la terza generazione, quindi possiamo applicare un Radiant Pro a schiusura uova seguito da un doppio trattamento di Delphin. Delphin è un prodotto anch'esso corteva a base di Bacillus thuringiensis, prodotto naturale di origine biologica. Guardando all'agricoltura biologica, appunto, in questo programma di difesa andremo a posizionare al posto di Radiant laser, così da avere laser e Delphin per avere una una difesa, diciamo, del vigneto con prodotti autorizzati in agricoltura biologica. Vado alle conclusioni dicendovi, appunto, che le spinosine di corteva, Radiant e laser possiamo considerare la miglior soluzione che possiamo proporre all'azienda agricola per il controllo dei principali insetti che danneggiano sia la vite da vino che la vite da tavola. Io con questo termino e vi ringrazio e sono disponibile dopo per eventuali domande e ulteriori considerazioni. Grazie. Grazie Davide per averci illustrato, appunto, le caratteristiche di questi due prodotti di laser e di Radiant, le vostre due spinosine. Tu, appunto, accennavi alle domande e risposte. Vi chiedo, visto che ne stanno arrivando molte, di utilizzare l'apposita area su Zoom dedicata alle domande e risposte per una gestione più puntuale di tutte quelle che sono i quesiti che volete porre ai diversi relatori. Quindi, al termine poi delle diverse presentazioni, avremo questa sezione dedicata proprio alle domande e risposte, ne stanno arrivando già diverse per i primi due relatori. Dagli insetti, ora ci spostiamo alla parte, invece, delle malattie fungine. Gabriele Aposenato, Diagrea, Centro Studi, ci farà entrare un po' più in dettaglio su quelle che sono le criticità legate a due patogeni chiave del vigneto, Peronospora e Oidio. Anche in questo caso sentiremo parlare di cambiamenti climatici e quindi vediamo un po' di capire qual è l'impatto dei cambiamenti climatici e che cosa dobbiamo implementare per una corretta gestione da queste due patologie. A te la parola, Gabriele. Grazie Gian Antonio, un saluto a chi ci ascolta da casa, un ringraziamento all'informatore agrario e a Corteva per darmi questa possibilità di parlare di questi due funghi e dare quelle poche indicazioni che sono utili per affrontare una difesa adeguata. Parlavamo di cambiamento climatico. Bene, qual è la prima cosa che noi possiamo osservare di questo cambiamento climatico? Nei nostri ambienti il germogliamento negli ultimi 30 anni è anticipato di 25 giorni. Non ci sono più ormai gli inverni che avevamo 30-40 anni fa. Gli inverni ormai sono relegati a poche settimane di basse temperature e quindi i germogliamenti sono più precoci. Cosa vuol dire un germogliamento precoce? Vuol dire che se 30 anni fa nel Veronese noi andavamo a fare il primo trattamento fungicida attorno al 10 di maggio, oggi lo andiamo a fare attorno al 25-26 di aprile. Ma cosa succedeva 30 anni fa e cosa succede oggi? Succedeva che 30 anni fa la vite di fatto scappava temporalmente alla germinazione della maggior parte delle ospore che germinavano appunto con le piogge che sempre succedono a fine aprile, inizi di maggio. Oggi invece queste piogge arrivano su delle viti che sono già recettive. E quindi quando impostare il primo trattamento? Ecco, questo è un punto fondamentale, perché come dice quel famoso adagio che ben comincia è già a metà dell'opera. Un conto è la data del trattamento presa così a caso perché oggi comincio, perché decido di cominciare oggi. E un conto invece è cominciare quando noi presumiamo che ci sia l'infezione. Oggi abbiamo a disposizione delle tecnologie che non avevamo tanti anni fa. Abbiamo delle previsioni meteo sempre più puntuali. Abbiamo dei modelli che ci aiutano a capire quando possiamo avere dei rischi maggiori o minori e quindi noi dobbiamo cercare di posizionare soprattutto i primi trattamenti a ridosso di quelle che possono essere le piogge infettanti. Perché posizionare un trattamento 3-4 giorni prima della piogge infettante, noi di fatto lasciamo che la vite produca delle nuove foglie e quindi che ci siano degli organi che non siano coperti e che quindi siano invece scoperti all'arrivo di eventuali zoospore. Questo è un caso che noi abbiamo potuto appurare con delle sperimentazioni. Nel giro di tre giorni avevamo questi organi che non erano più coperti nel trattamento e in presenza di infezioni primarie già importanti andavamo a mettere a rischio il nostro vigneto. Altra problematica è quella relativa al germogliamento di sforme perché è chiaro che se noi salviamo questa vite abbiamo dei germogli che partono dagli speroni che sono assolutamente recettivi mentre abbiamo il capo a frutto che praticamente le gemme o devono ancora germogliare o hanno appena iniziato il germogliamento ma non sono recettive. Voi capite che diventa molto difficile qui posizionare un trattamento perché noi possiamo trattare oggi ma dopo quattro giorni abbiamo già una buona percentuale di vegetazione che risulta scoperta. In tutta questa fase, diciamo fino alla fioritura, noi dobbiamo essere molto attenti, non possiamo permetterci di avere infezioni primarie sulle quali subito dopo magari subentrano delle piogge perché situazioni di questo tipo vuol dire essere votati al suicidio. Andiamo un po' più avanti con la stagione e incontriamo un punto che io definirei fondamentale per quella che è la preservazione del nostro patrimonio che sono i grappoli perché noi il vino lo facciamo con i grappoli più che con le foglie, le foglie servono per fare lo zucchero ma noi quello che ci interessa è portare a casa soprattutto i grappoli. Noi sappiamo che dopo un certo periodo la peronospora non attacca direttamente l'acino perché perde gli stomi. Però c'è tutta un'altra parte del grappolo che è il rachide e i pedicelli che devono essere assolutamente protetti. Quindi la massima attenzione noi la dobbiamo avere a cavallo della fioritura in quella fase che poi si arriva alla chiusura del grappolo perché qui noi dobbiamo mettere veramente in cassaforte la nostra produzione e qui dobbiamo essere molto attenti nella scelta dei principi attivi giusti e nelle tempistiche giuste onde non avere sorprese di questo tipo e quando noi vediamo la peronospora d'Alvata quello è la certificazione che noi abbiamo sbagliato qualcosa molto prima, non qualche giorno prima. Questa è un'immagine eclatante, questo era l'anno, correva l'anno 2014, questo era un grappolo di colvina chiuso e aprendo gli acini si trovano questi pedicelli dove era presente la peronospora. Vuol dire che qui quegli organi non erano stati protetti in maniera corretta. Andiamo sempre a quell'annata, il 2014 perché è stata secondo me un'annata che ha insegnato molto, ha insegnato molto e in quell'anno si veniva da un maggio piovoso ma che non aveva generato grandi problematiche. Quindi si era allentata un po' la presa, si pensava di aver portato a casa la stagione già a luglio e poi invece è bastata un'infezione di luglio per generare problematiche ben più pesanti. Bene, chi quell'anno ha utilizzato determinati prodotti con una grande affinità per le cere, con un trattamento solo ha salvato la produzione. Altri invece si sono trovati in situazioni che vi vado a illustrare con questo video. Ecco, un video che si commenta ovviamente da solo. Quindi avevamo fatto i bravi fino alla fioritura, poi abbiamo allentato e non abbiamo utilizzato prodotti che potessero proteggermi il grappolo. E allora pensiamo a varietà come potrebbe essere un pinot grigio, uno chardonnay, che nel giro di una settimana, massimo 10 giorni, chiudono il grappolo. E da quella fase lì noi non possiamo più arrivare a rachide o ai pedicelli. Ecco, forse anche qui bisognerebbe un attimino considerare dei trattamenti a fase fenologica. Questo è uno spunto che vorrei lanciare. E poi quando si parla di cambiamenti climatici ovviamente non si può non citare questi fenomeni ormai sempre più frequenti e di proporzioni sempre più grandi e imprevedibili. Questo è il famoso uragano che ha colpito Verona l'anno scorso e che ha segnato uno spartiacque nella stagione dell'anno scorso. Perché da quel momento lì in poi abbiamo avuto delle grosse infezioni che per fortuna non hanno interessato il grappolo o meglio lo hanno interessato in parte, ma hanno interessato soprattutto l'apparato fogliare, in particolare le femminelle. Ecco, altra particolarità dell'anno scorso. Sembrava non potesse essere un'annata da Peronospora. Qui vedete un testimone non trattato al 20 di agosto che si poteva tranquillamente vendemmiare, questo è un Merlot, e voi vedete che 15 giorni dopo gli stessi grappoli erano tutti appassiti per degli attacchi di Peronospora. Vi dicevo, grosse piorosità in breve tempo che permettono poi delle bagnature prolungate, una non corretta gestione della parte in verde e ci siamo trovati nella stragrande maggioranza dei vigneti vigorosi di pianura in situazioni di questo tipo. Ecco, noi vediamo una linea che potrebbe essere la linea ideale di coltivazione della vite, la pedocollina, la collina che è assolutamente verde e 5 metri più sotto vedete delle viti con una vegetazione completamente bruciata dalla Peronospora. Questo dovuto anche al fatto che noi purtroppo con i certi disciplinari che abbiamo, il contenimento dei residui e quant'altro, abbiamo un arsenale veramente grande di principiativi, di prodotti che arrivano, che possiamo utilizzare fino alla fioritura e poi invece chiudiamo la nostra stagione solamente con il rame che a volte in situazioni di questo tipo non ce la fa. E passiamo all'uidio che è una malattia che sta cominciando a dare dei problemi. Io lancio sempre questa diapositiva per far capire che non è una malattia secondaria alla Peronospora, dove c'è, se non trattata correttamente, da dei grossi problemi. Ma vorrei partire da qua, dovrei partire da questa immagine di un merlot di pianura. Di solito si pensa che in pianura e soprattutto sui merlot l'uidio non possa dare dei problemi. Ma abbiamo ormai delle stagioni che sono cambiate, non abbiamo più, come direbbe magari qualche attore di teatro, le mezze stagioni. Abbiamo delle estati che sono sempre più prolungate, non abbiamo quasi più un autunno. E noi cosa abbiamo nei nostri vigneti? Abbiamo che sospendendo i trattamenti molto presto lasciamo campo aperto poi ai funghi per un periodo anche abbastanza lungo, anche due o tre mesi, dove abbiamo la vegetazione che continua e loro hanno campo aperto. In questo caso l'uidio non fa altro che preparare le strutture che gli permettono di trascorrere l'inverno, i cleistoteci o casmoteci come si chiamano adesso, che daranno origine a quelle infezioni che spesso non si vedono, che sono le infezioni primarie, che possiamo trovare anche su questi succhioni lungo il fusto. Bene, poi tutto comincia da qui, tutto comincia da qui e generalmente noi invece ce ne accorgiamo dell'uidio quando siamo in fioritura o all'ingrossamento degli acini. Ecco, se noi arriviamo ovviamente a situazioni di questo tipo, vuol dire che abbiamo sbagliato qualcosa prima. E pensare di spegnere un incendio quando ormai la casa è a fuoco e quanto invece sarebbe più facile spegnere magari quel cerino che lei ha innescato. Ecco, la difesa contro l'uidio sta tutta secondo me in questa foto. e vi lascio invece con questa, dove l'uidio ci sembra dire se tu mi dai mezzo centimetro io me lo prendo. Ecco, con i funghi purtroppo non si scherza e non bisogna mai pensare di curarli, bisogna assolutamente prevenirli. Grazie. Grazie Gabriele per la tua presentazione, come sempre molto puntuale. Hai fatto vedere, ricordo bene, quella bomba d'acqua che si è abbattuta su Verona. Ricordo perché veramente in pochissimi minuti è scesa una quantità d'acqua incredibile. Cambiamenti climatici quindi stanno condizionando moltissimo sia la difesa antiperonosporica ma ho visto anche la questione oidio che sta diventando una problematica importante non più solo al sud ma anche al nord. Quindi il concetto di prevenzione risulta essere un concetto fondamentale. Ultimo intervento ed entriamo un po' su quelle che sono le soluzioni che Corteva propone per la difesa antiperonosporica da queste due patologie con peronospora e oidio. Andrea Angeli, responsabile fungicidi di Corteva, ci illustrerà innanzitutto quelle che sono le due nuove soluzioni a base di Zorvec che è la novità entrata da pochi anni sul mercato e che diciamo ha portato una grande innovazione per la difesa antiperonosporica. Come si inserisce nel vostro catalogo prodotti e poi andremo anche a vedere quelle che sono le caratteristiche dei prodotti invece per la linea oidio di Corteva. Andrea a te la parola. Grazie mille. Allora mi chiamo Andrea Angeli, appunto sono responsabile per quanto riguarda il portafoglio fungicidi di Corteva a livello Italia. L'intervento di oggi verte essenzialmente su due problematiche per nospora e oidio e sono qua a presentarvi Zorvec Active, un prodotto che abbiamo visto nelle scorse stagioni è entrato sul mercato, ha saputo stupire per l'elevata efficacia e per la sua affidabilità che non smette di innovarsi in quanto quest'anno possiamo presentarvi due nuovi formulati per la gestione del vigneto. Parliamo di fatto di due nuovi formulati in miscela pronta che ereditano le caratteristiche delle precedenti soluzioni che erano vendute essenzialmente in un formato di Copac. Parliamo di Zorvec Vinabel, erede della soluzione Zorvec Zervinvel e a base di Zorvec Active più Zoxamide, e Zorvec Vinabria, il nuovo arrivato in imminente lancio per la campagna in corso, a base di Zorvec Active più Folpet. Parlavamo di miscele pronte e ovviamente le miscele pronte portano con sé una serie di punti di forza molto importanti. Prima di tutto a livello formulativo, in quanto vengono di fatto studiate ed ottimizzate per garantire la massima efficacia e sinergia tra Zorvec e il suo partner e nelle prossime slide vedremo anche nello specifico a cosa mi riferisco. Ma, restando più sul lato pratico poi operativo, portano anche una serie di benefici a livello del trasporto, dello stoccaggio e dell'utilizzo, non meno l'utilizzo poi e la miscelazione in botte, e il minore ingombro. Inoltre, le flessibilità tra le taglie riescono poi ad andare incontro a tutte quelle che sono le diversità degli reali viticoli italiani, caratterizzati molto spesso da frammentazioni dei corpi aziendali e esigenze diverse. Anche qua vorremmo farvi una carta di identità molto veloce per riassumere quelli che sono i punti fondamentali di queste due innovative soluzioni. Zorvec Vinabel, come detto, è a base di Zorvec Active più Zoxamide e, come dicevamo, passa da una formulazione a base oleosa, quindi una dispersione oleosa, a una Suspo Emulsione. Suspo Emulsione che, oltre a agevolare l'utilizzo del prodotto a livello di miscelazione in botte, va anche a migliorarne quelle che sono le caratteristiche di stabilità e gestione operativa proprio del formulato. Il dosaggio è di mezzo litro d'ettaro e, come detto, avendo due taglie a disposizione da uno e da tre litri, andiamo quindi a coprire le esigenze da due a sei ettari. Discorso analogo per quanto riguarda Zorvec Vinabia, quindi Zorvec Active più Folpet, un fungicida di copertura multisito, uno dei fungicidi chiave per quanto riguarda la difesa antipronosporica, che passa in formulazione di sospensione concentrata. In questo caso parliamo di due litri ad ettaro e, avendo a disposizione due taglie da uno e da cinque litri, copriamo le esigenze da mezzo ettaro a due ettari e mezzo. Quindi, come dicevamo, veramente un parco di possibilità, di combinazioni molto importante che viene incontro all'areale viticolo italiano. Parlando di Zorvec vorrei richiamare una delle caratteristiche che dicevamo anche con l'intervento di Gabriele Posenato, ovvero la spiccata resistenza al dilavamento e velocità di assorbimento che un fungicida innovativo come Zorvec ha e porta sul mercato. Pensate che, come dicevamo, in meno di un'ora dal trattamento più dell'80% del prodotto è già assorbito dalla pianta, quindi di fatto costituisce un vero e proprio serbatoio non dilavabile di principio attivo che riesce innanzitutto a creare una vera e propria barriera attivamente contro la peronospora ma che è in grado anche di traslocarsi innanzitutto per via translaminare ma entrando anche in contatto col tessuto oxilematico e quindi entrare in circolo con il tessuto vascolare della pianta. Di per sé questa è una caratteristica molto importante e chiave in un fungicida ma diventa ancora più interessante se la guardiamo nell'ottica dell'attività biologica di una componente, di una soluzione come Zorvec Active. Focalizziamoci un attimo su questa tabella in maniera molto semplice e veloce. Questa è una tabella che valuta la EC50, un valore analitico che essenzialmente ci fa capire quanto principio attivo serve, qual è la concentrazione che serve per inibire il 50% della popolazione di un fungo. Vi ho cerchiato il riquadro in alto a sinistra che riguarda appunto l'attività nella germinazione contro la germinazione del Zoxpore della plasmopora viticola, quindi della peronospora della vite. Parliamo di un'attività che essendo parti per milione la possiamo convertire in 10 parti per trilione, quindi una a concentrazioni veramente basse dell'ordine dei millesimi di miliardo, consentono al prodotto di essere già completamente attivo nei confronti della peronospora e se li consideriamo nell'ottica di quel 5% che si trasloca nei tessuti vascolari, se ne traduce che l'attività sistemica di Zorvec è in realtà composta da un'elevata quantità di principio attivo attivamente trasportato nei tessuti vascolari che va a avere di fatto un'attività traslaminare, molto importante nel controllo della peronospora, ma anche sistemica acropeta. In questo caso è bene spendere due parole sul fatto che questo movimento sistemico acropeto è di fatto ottimizzato alle necessità fisiologiche della pianta, in quanto rispetto ad altri principi in commercio oggigiorno che sono molto solubili in acqua e quindi tendono a essere traslocati principalmente negli apici vegetativi, Zorvec riesce a proteggere sia la vegetazione in accrescimento o non presente al momento del trattamento, ma anche a dare una protezione consistente e molto importante, come dicevamo nell'intervento prima, del grappolo e della parete vegetale invece presente al momento del trattamento. Parlavamo di una soluzione ricca di vantaggi, quindi non vi ho accennato al nuovo meccanismo d'azione, quindi l'assenza di resistenza incrociata, in quanto comunque è stato ampiamente trattato nel corso degli anni immediatamente dopo il lancio e nel prelancio. Ma l'unione di queste tre caratteristiche fondamentali, unita appunto alla resistenza di lavamento e all'attività sistemica di cui parlavamo, rendono questa soluzione flessibile a 360 gradi, affidabile. Parlevamo delle famose bombe d'acqua della scorsa stagione, abbiamo visto che avere un prodotto che ci evita di far ripetere il trattamento in queste circostanze è un alleato prezioso a 360 gradi. Inoltre massimizzando l'intervallo dei trattamenti si va anche ad ottimizzare il numero dei trattamenti con una gestione migliore a livello aziendale appunto del calendario degli interventi. Zorvec ha ovviamente un posizionamento molto ampio, consentito un'etichetta, ma il posizionamento tecnico è il posizionamento che poi è necessario per esaltare tutte queste caratteristiche che abbiamo elencato poc'anzi. Il posizionamento ideale di Zorvec è ovviamente a cavallo della fase critica nella lotta alla peronospora, ovvero nella fase immediatamente prima della fioritura, a circa 10 giorni, fino a 10 giorni prima della fioritura, a cavallo della fioritura in maniera preventiva con un blocco di due applicazioni e dosaggi che abbiamo riportati anche qui in questa diapositiva. Passando invece all'oidio, vorrei parlare di un prodotto che mi piace dire che si rinnova anche esso, non si rinnova nel senso stretto del termine, ma si rinnova in uno scenario che cambia. Parliamo di Talendo, che è un fungicida a base di Proquinazid, molecola dalle spiccate attività antioidiche, ed è presente anch'esso in due formulazioni, una formulazione straight, quindi a base di solo Proquinazid, e una formulazione in miscela con tetraconazolo. È un fungicida molto importante e strategico a 360 gradi perché? Perché oggigiorno è l'unico della sua classe di meccanismo d'azione in grado di bloccare la formazione dell'apprensorio delle spore in fase di colonizzazione della pianta ospite, quindi fa sì che la spora che tenta di entrare all'interno del tessuto vegetale non riesca di fatto ad ancorarsi e quindi abortisca l'inizio dell'infezione, che è la sua poi azione principale e un meccanismo d'azione spiccatamente, come capiamo, preventivo. Un'attività secondaria però che è stata osservata nel corso dello sviluppo di questo prodotto e che oggigiorno è sempre più importante nell'ottica di gestione della coltura è il fatto che un trattamento di talendo induce la pianta a produrre una serie di sostanze che abbiamo imparato a conoscere negli ultimi anni, quali fitolescine, acido salicilico, linnina, che rendono di fatto la pianta stessa meno suscettibile ai successivi tentativi di infezione da parte di funghi come l'ogidio. Talendo interagisce nella pianta in maniera abbastanza particolare, peculiare, ha una forte affinità alle cere, quindi si lega molto bene a una componente come l'ascino, che quindi è la componente principale, come dicevamo nell'intervento precedente, da proteggere, ma è in grado anche di ridistribuirsi al livello di tensione di vapore, gassificando e ridepositandosi contemporaneamente sulla superficie vegetale, andando quindi a raggiungere molto importante anche l'ascino, le parti più interne dell'ascino, assicurando quindi una protezione molto uniforme e qui è fondamentale anche in varietà dove abbiamo una chiusura dell'ascino in maniera molto veloce e quindi, come dicevamo, possono nascondere all'interno infezioni di oidio che poi esplodono in fasi più avanzate della stagione culturale. Difatti è stato visto in laboratorio che riesce a coprire anche porzioni molto distanti dal punto di applicazione grazie a questo effetto di tensione di vapore. Avviandomi verso la conclusione, comunque abbiamo detto che Talendo ha un meccanismo d'azione unico, è in grado di assicurare una ridistribuzione uniforme e una tenuta del prodotto sicuramente più alta degli standard di mercato grazie a questo effetto di tensione di vapore, ma soprattutto, e lo vedremo nella slide dopo visto il posizionamento tecnico, non altera le caratteristiche organolettiche dei vini e dei distillati, che è fondamentale trattandosi comunque di una cultura che viene sottoposta poi a trasformazione. In quest'ultima diapositiva volevo fare una considerazione finale dicendo che parliamo di difesa alla peronospora e all'oidio in chiave strategica. Non esiste un singolo prodotto che fa tutto, non esiste un singolo prodotto che va bene in qualsiasi fase, ma esiste il prodotto giusto nella fase giusta. Ogni fase si fonda su dei pilastri fondamentali, come ad esempio la fase di fioritura per la peronospora, nel quale un prodotto come Zorbeck riesce ad esaltare tutte quelle che sono le caratteristiche necessarie per proteggere la pianta, così come nella difesa antioidica si ha la fase di post fioritura, quindi di protezione dell'acino in accrescimento, prodotto molto affine alle cere come talendo. O ad esempio in fase di fioritura altri prodotti che hanno un'azione sui misceli svernanti, come ad esempio potrebbe essere un prodotto come il caratane stato. Con questo concludo e non mi resta che augurarvi buona campagna a tutti. Grazie Andrea per averci illustrato quelle che sono le soluzioni Corteva per la difesa da peronospora e oidio. Abbiamo visto queste due nuove soluzioni a base di Zorbeck e proprio da te vorrei partire, visto che c'è una domanda fresca fresca, appena arrivata, proprio sulle nuove soluzioni di Zorbeck. Tu hai parlato di soluzioni già preformulate, quali sono i vantaggi di questi premix e rispetto ai copac? Come detto in precedenza, i vantaggi principali sono l'ottimizzazione di fatto di una formulazione dedicata al vigneto, quindi una formulazione che va a risolvere tutte quelle che sono le dinamiche di stabilità del prodotto e di gestione poi a livello del prodotto in botte, pensiamo comunque a miscele di più fungicidi o anche insetticidi. Non ultima la praticità, come detto, nel trasporto, nell'utilizzo o nella stessa miscelazione. Inoltre un aspetto molto importante, ma che lega comunque la componente Zorbeck, è il fatto che la zoxamide sia di fatto una soluzione fungicida che dà un'azione collaterale anche con, diciamo, sulla botrite. Quindi il fatto di avere una soluzione che non solo ti protegge dalla peronospora, ma che riesce comunque a essere una soluzione versatile a 360 gradi. Grazie Andrea. Scendo allora a Gabriele. Per te è una domanda molto molto tecnica. Appunto ci viene chiesto, secondo Goidanic la peronospora allarvata ha una finestra di ingresso piuttosto breve. Parla di dimensione dell'acino tra 13 e 17 mm. Poi secondo lui gli stomi del pedicello si chiudono. Potremmo tenere conto di questa indicazione per la localizzazione di un eventuale trattamento cautelativo in annate particolarmente rischiose? Beh, qui andiamo molto sul fine. Stiamo parlando di Goidanic, stiamo parlando di qualche anno fa. Bisognerebbe, secondo me, riprendere in mano tutti questi studi. Io comunque preferisco il trattamento opposizionale piuttosto un giorno prima, piuttosto che un giorno dopo. Quindi bisogna che tutta la strategia sia importata e impostata a non lasciare finestre. Perché per fortuna abbiamo ancora un buon arsenale di prodotti con caratteristiche diverse. E quindi è più facile ragionare su questo che non sui centimetri o millimetri che possiamo osservare soltanto se andiamo 24 ore su 24 in campo. Non dico che la difesa contro la terranosfera possa essere fatta a tavolino, però ci possiamo anche arrivare abbastanza bene posizionando. Dopodiché, saper leggere le previsioni meteo, questo ci aiuta perché ci può far evitare di posizionare determinati trattamenti, quindi farne qualcuno in meno. Ma sapere dosare e utilizzare i prodotti giusti nel momento giusto, questa è la chiave vincente, secondo me, per la lotta alla pera nostra. Domanda secca. La regola dei 3-10 ha ancora validità? Ma la regola dei 3-10 dipende cosa intendiamo per 3-10 perché 10 cm di sviluppo di vegetazione con una foglia che ha 3 cm di diametro è già più che sufficiente per la pera nostra per entrare. per cui già lì, poi 8-10 mm, insomma non penso che la pera nostra ci abbia il pluviometro per andare a vedere quanti millimetri. Bisogna capire bene cosa succede ad aprile, perché questa è la chiave fondamentale. Abbiamo uno storico di dati importante che ci dice che se ad aprile abbiamo delle piogge frequenti e se soprattutto a ridosso di quel 27-28 aprile, primo di maggio abbiamo delle bagnature che possono preparare le ospore, lì abbiamo sempre delle infezioni importanti. Un'ultima domanda, ti faccio validità dei modelli previsionali. Qual è la validità secondo il tuo punto di vista, la tua esperienza? Tutto serve, niente è indispensabile, nel senso che possono essere uno strumento, certo ci sono dei punti oscuri che la pera nostra dobbiamo ancora capire, cioè se noi sapessimo veramente quando abbiamo le ospore che germinano potremmo posizionare quel trattamento nel momento giusto. Penso che la natura sia sempre difficile da modellizzare, noi di fatti i modelli servono per darci un aiuto, ma non è che ci dobbiamo affidare solamente a quelli. Secondo me dobbiamo riprendere in mano la fitoiatria e l'agronomia, cioè l'ABC di quello che è lo stare in campagna. Pensare di fare, come dicono i miei amici brasiliani, l'agronomo del scrittorio, cioè l'agronomo che sta in ufficio, sì, fino a un certo punto. Grazie Gabriele. Davide, diverse domande anche per te. Tu hai parlato di due soluzioni a base di spinosine, laser e radiant. Sono registrati in agricoltura biologica innanzitutto? Proprio domanda velocissima. laser è registrato in agricoltura biologica. Invece radiant non è registrato. Prima Enrico Marchesini ha parlato anche di non solo le tignole, ma anche tignola rigata e volevo capire innanzitutto quali sono le registrazioni per i due prodotti e se avete pensato a delle estensioni di etichetta. Sì, no, grazie per questa domanda. Allora, per quanto riguarda il formulato di Radian Pro, stiamo lavorando come corteva per ampliare, diciamo, l'etichetta ed inserire in etichetta anche la Drosophila Suzuki e la tignola regata, la Crypto Blabes Niediel. Per affinità di molecole Spinosa, Spinetram, sappiamo che anche Spinetram ha un'ottima attività nei confronti di Drosophila Suzuki, quindi sono in corso le attività per fare queste estensioni di impiego. Stessa cosa vale anche per la tignola regata. Sappiamo da esperienze di campo che il prodotto ha un'ottima attività, perché nel momento in cui andiamo a fare un trattamento, specialmente sulla terza generazione di tignoletta e contemporaneamente la presenza della tignola regata, abbiamo visto avere questa attività. Quindi la nostra idea, anche in collaborazione con Agrè, è quella di fare ulteriori studi per ampliare l'etichetta e portare questo pesto a disposizione di Radian Pro per gli agricoltori. Hai parlato di Drosophila e la domanda che ci viene posta è in bio contro Drosophila ho un solo trattamento con Spinosina. Come integrare per i successivi trattamenti? Cosa si può fare? Sicuramente il trattamento con una Spinosina è fortemente raccomandato e poi sicuramente come detto da Enrico Marchesini nella sua presentazione, ci sono altri metodi di tenere puliti i bordi, le viti, le reti, anche l'utilizzo di reti, fanno sì che si possa contenere al meglio questo pesto. Un'altra domanda, sempre relativamente ai due prodotti, i due prodotti necessitano l'acidificazione dell'acqua per i trattamenti? Allora, diciamo che come buona pratica agronomica acidificare una soluzione è sempre consigliabile. Funzionano bene anche senza l'acidificazione, però il consiglio che si può dare per fare un trattamento fitosanitario è sempre quello di acidificare. È sempre una buona regola, una buona pratica agronomica. Grazie Davide. La drosofila è un argomento molto molto dibattuto appunto nella chat e ho due domande per Enrico. Allora, innanzitutto la prima, il monitoraggio della drosofila come viene fatto? Che trappole si possono usare? È utile? Come va fatto il campionamento? Se zucchi può essere sviluppato attraverso l'utilizzo di trappole alimentari, come avete visto nel video sono trappole di colore rosso, dove all'interno c'è una miscela di aceto, può essere di vino o di mele, con dello zucchero e del lievito in certi casi. Ci sono anche delle soluzioni già pronte da acquistare, però il problema è che queste trappole non sono specie specifiche, cioè non attirano solo drosofila su zucchi, ma attirano tutta una serie di specie di moscerini. Naturalmente noi mettiamo una retina che permetta di far entrare solo gli insetti che hanno una certa dimensione, ma tutte le specie di drosofilidi in generale, compresa la nostra drosofila melanogaster entrano, per cui poi lì c'è tutto un lavoro che è pesante di selezionare tutto il materiale che entra, di dividere le specie e poi nell'ambito delle specie distinguere i maschi dalle femmine di drosofila su zucchi. Però il monitoraggio con le trappole per valutare la presenza degli adulti è relativo come importanza, perché ormai nei nostri ambienti la drosofila su zucchi c'è. Quello che importa di più e che bisogna che ci sia un impegno da parte di tutte le organizzazioni e di tutte le realtà produttive direi anche, è quello di mettere in piedi in un'area omogenea, un monitoraggio sulla ovideposizione. E questa non è da poco, perché? Perché le uova vengono deposte proprio attorno al pedicello dell'acino, per cui siamo un acino prossimo alla maturità, ad essere raccolto. Significa che in campo è difficilissimo da vedere, bisogna staccare gli acini. Noi facciamo questo monitoraggio e lo facciamo staccando un determinato numero di acini ben precisi, portandolo in laboratorio e osservandolo attentamente o con una buona lente o altrimenti con un microscopio stereoscopico. Solo in questo modo è possibile andare a valutare l'inizio di ovideposizione e come prosegue l'ovideposizione. Questo monitoraggio è fondamentale per stabilire se trattare e quando trattare. Grazie Enrico. Altra domanda, drosofila Suzuki sempre. L'impatto, questo è un veronese sicuramente, l'impatto in fruttaio. Cioè quindi l'importanza di drosofila Suzuki non tanto prima della raccolta ma poi nella post raccolta. Noi in passato abbiamo pubblicato un articolo sull'informatore agrario dove tu eri proprio un autore. Ci puoi dare alcune indicazioni di come gestire in post raccolta, quindi nel fruttaio? Ma senti Gian Antonio, ma mi concedi un minuto o mezzo? No dai un minuto. Un minuto. Allora me lo concedi? Te lo concedo. Noi perché lui è sempre molto preciso. No ma siamo stati bravi oggi, veramente. Allora posso permettermelo? Certamente. Perfetto. Allora se posso permettermelo faccio una slide. Benissimo. Per un racconto. Perché sai perché? Perché racconto una storia che parte dal vigneto e prosegue nel fruttaio. Ti piace l'idea? Mi piace. Perfetto. Mi piacciono queste cose un po' dinamiche in studio così improvvisate. Benissimo. Nel frattempo, mentre tu carichi la presentazione, faccio una domanda ad Andrea per quanto riguarda Talendo. Qual è il miglior posizionamento di Talendo nella difesa antioidica? Allora Talendo, l'abbiamo visto un po' nell'ultima slide, magari nella velocità non si è capito molto bene. Comunque Talendo è un prodotto che, avendo una forte affinità alle cere, essendo un prodotto che vogliamo posizionare a protezione del grappolo, necessita di avere di fatto un grappolo da proteggere. Quindi il posizionamento migliore è sicuramente dopo la fase di fioritura in una fase che va nell'accrescimento dell'acino, appunto del grappolo, con un trattamento o comunque con un blocco di due trattamenti possibilmente. Così da sfruttare a pieno tutte queste caratteristiche di ridistribuzione del prodotto. Grazie Andrea. Sei pronto Enrico? Assolutamente sì. A te la parola. Ecco qua, partiamo dal vigneto. Qui vedete in questa curva, diciamo, quello che è il numero degli adulti di Drosofila Suzuki per trappola per settimana. Vedete che ha un picco importante perché stiamo parlando di 2.500 adulti e siamo, vedete, da fine agosto verso la metà di settembre. Poi cosa succede? A un certo punto ecco l'inizio delle ovideposizioni e vedete che l'ovideposizione è esponenziale. In pochissimi giorni si passa da 1 a 152 uova su 100 acini. Poi cosa succede? Succede che abbiamo anche, si vedono i grappoli colpiti e siamo a una percentuale di grappoli colpiti in questo caso di 60%. Poi per fortuna, perché il viticoltore ha detto no, 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 qua devo vendemmiare il più rapidamente possibile perché altrimenti ho di grossi problemi di sanità delle uve e ha vendemmiato, siamo avanti perché siamo su varietà tardive, siamo a fine di settembre. Però poi noi abbiamo portato quest'uva in fruttaio perché abbiamo voluto valutare cosa succedeva di quest'uva in fruttaio. Allora cosa abbiamo visto? Siamo andati a contare il numero di adulti di drosofila Suzuki su un determinato gruppo di grappoli attraverso sempre le trappole di attrazione alimentare. Vedete che già dal 10 ottobre abbiamo degli adulti che proseguono, pensate, fino al 21 novembre. È come dire, guardate, che in fruttaio, e qui stiamo parlando di un fruttaio per la produzione dell'amarone, in particolare siamo in Valpolicella, abbiamo 40 giorni di volo degli adulti di drosofila Suzuki in fruttaio. Successivamente siamo andati a contare il numero di acini colpiti e vedete che anche qui per grappolo e quindi abbiamo un aumento importante di questi acini, abbiamo anche un aumento della percentuale di grappoli colpiti. Però sapete una cosa che volevo dirvi? È questa, cioè in fruttaio drosofila Suzuki completa lo sviluppo, sia che parta da uovo che parta da larva, cioè si ottiene l'adulto, ma il bello è che le femmine dopo l'accoppiamento sono in grado di ovideporre su acini all'interno del fruttaio. Quindi c'è la possibilità di svolgere un'ulteriore generazione. Questo cosa ci porta assolutamente a dire? In fruttaio trattamenti non se ne possono fare per legge, bisogna portare in fruttaio uva sana e questa è la regola assoluta. Se dobbiamo fare una difesa per drosofila Suzuki, per chi deve selezionare delle uve per l'appassimento in fruttaio, la deve fare in campo prima della vendemmia, prima della selezione delle uve, perché poi le possibilità sono praticamente zero. Grazie Enrico, il minuto te lo sei meritato tutto perché effettivamente hai lanciato veramente un messaggio importantissimo nella gestione di drosofila Suzuki nei territori veronese dove viene fatta una selezione dopo la raccolta. Ho ancora qualche domanda, una domanda specifica sull'oidio. Gabriele, la domanda è la seguente. È ancora molto importante valutare l'impatto delle infezioni ascosporiche relativamente all'oidio. Questa è una domanda fatta da chi ci sta seguendo, che non è solamente del territorio del nord, ma è un webinar che ha coinvolto tutto il territorio nazionale e appunto mi segnala che è un produttore di uva da tavola. Certo che sono importanti. L'uva forse rispetto alla peronospora è più facile da gestire. Se pensate solamente che è un fungo che attacca dall'esterno, mentre la peronospora è un fungo che quando è dentro di fatto è dentro e fai fatica poi a prenderlo. Quindi serve assolutamente la prevenzione su questo fungo. Quindi capire già da dove vengo dall'annata precedente e capendo come è andata l'annata precedente preparo l'annata successiva. Se ho avuto attacchi nell'annata precedente devo assolutamente partire col piede giusto ed evitare le infezioni primarie. Dopodiché stiamo vedendo però anche qui al nord che dopo comunque non è che abbiamo risolto tutto, perché poi l'oidio non ha bisogno di pioggi infettanti durante la stagione e quindi è sempre con il clima che abbiamo adesso, le condizioni per l'uidio ci sono sempre e ci sono tutte costantemente. Da noi cominciano a diventare importanti gli attacchi, gli attacchi tardivi. Ormai, non dico quasi ogni anno, però quando si smette troppo presto per un problema residuale o quant'altro, di arrivare in vendemia con i racchidi che sono completamente bianchi e le foglie altrettanto, se poi pensiamo che poi restano lì per altri un mese sicuro, non facciamo altro che produrre continuamente inoculo. Quindi questa è una malattia come ho fatto vedere prima, l'immagine del pompiere che spegne e l'immagine del cerino che può essere spento con un dito opportunamente bagnato, ovviamente per non scottarsi. Ecco, quindi prevenzione, prevenzione assoluta. E mi aiuti anche a rispondere a questo utente appunto che chiede quali sono le caratteristiche di un prodotto che permettono di aderire alle cere degli acini? È un argomento abbastanza importante e complesso teoricamente da affrontare. Beh, se la fai a me, io non sono un chimico, quindi passerei per passarei la domanda. Certo, nelle schede di sicurezza c'è la carta di identità di questi prodotti, basta guardare il coefficiente otanolo-acqua e se questo è sopra i tre, come in grosso modo hanno tutti i prodotti che vanno posizionati sul grappolo, lo Zoldec, la Doxamide, la Metoc3D, adesso magari non li cito tutti e non me ne vogliono quelli che non ho citato. Però, insomma, basta guardare quei quattro fogli che ci consegnano quando andiamo a comprare i prodotti, perché di solito non li guarda mai nessuno, ma sono la carta di identità di ogni singolo prodotto e lì c'è scritto tutto quello che dobbiamo sapere. Andrea, tu vuoi aggiungere qualcosa relativamente, tu hai già citato appunto che la soluzione di Zordec più Doxamide ha una particolare affinità sul grappolo e quindi è appunto un vantaggio della vostra soluzione proprio in tal senso. No, esattamente, esattamente, proprio quello è il punto, avere un prodotto che ha sicuramente un vantaggio, ovvero il legarsi alle scere e poi come spiegavamo in alcuni casi il coefficiente otanolo-acqua non è esplicativo o completamente esaustivo nel descrivere il comportamento di un principio attivo, come detto, come ho avuto occasione di vedere nella presentazione, contestualizzandolo anche in merito all'elevata attività biologica, si va poi a capire come il prodotto si comporta poi in campo, perché si ha effettivamente, come diceva Gabriele Posenato, non si può essere solamente chimici in campo, bisogna andare anche a capire poi qual è il comportamento reale di un prodotto. Grazie. Adesso con Enrico e Davide vorrei affrontare questa tematica che viene posta relativamente al Tignola, quarta generazione, quindi dobbiamo allungare la difesa. Ci puoi dire, Enrico, cosa bisogna fare nella seconda parte della stagione, visto che la quarta generazione, come citavi, è ormai sempre più frequente? Invece a Davide chiedo che caratteristiche deve avere un prodotto per essere utilizzato in prossimità della raccolta. Parto io? Sì. Beh, allora, abbiamo detto che il monitoraggio è la parola chiave, e quindi l'uso delle trappole resta ancora uno strumento importante per valutare la presenza e il volo degli adulti, però la presenza delle uova e dello sviluppo larvale resta sempre un aspetto importante, questo richiede naturalmente un'osservazione diretta in campo. e sulla terza generazione, diciamo così, può succedere anche questo, è un aspetto un po' particolare. Vale a dire, l'induzione a diapausa invernale di un insetto come un lepidotero tortricide avviene nei primi stadi larvali, ok? E non è tanto legato alla temperatura, ma quanto al fotoperiodo, vale a dire al numero di ore di luce rispetto al numero di ore di buio. Allora, bisognerebbe approfondire ulteriormente, ma sembra proprio che la prima parte della terza generazione, ok, venga coinvolta da un fotoperiodo, quindi da un numero di ore di luce, tale per cui queste larve piccolissime, come quelle che vi ho fatto vedere che stanno schiudendo dall'uovo, non entrano in diapausa invernale, ma proseguono e danno origine a una quarta generazione. Mentre le larve di terza generazione che escono più avanti sono sottoposte, per così dire, a un fotoperiodo diverso, quindi il numero di ore di luce è più ridotto. Questo porterebbe queste larve a essere indotte a entrare nella diapausa invernale, per cui questa parte della popolazione larvale di terza generazione non va a fare la quarta, ma va a incrisalidare e a fermarsi sotto il ritidoma della vite. È per questo motivo che noi parliamo di una quarta generazione parziale. Per cui noi, se abbiamo a che fare con una varietà tardiva, meglio tardiva, ma soprattutto tardiva, dobbiamo essere accorti per andare a vedere se esiste una ovide posizione che può verificarsi, per esempio, verso i 10-15 di settembre, che può darci problema. È ovvio che se noi abbiamo una varietà che raccogliamo prima, il problema non c'è. Se è una varietà che viene portata subito a pigiare, il problema non c'è, perché forse c'è qualche uovo. Ma se invece è una varietà che deve essere selezionata, per esempio, per l'uve a riposo nel fruttaio, allora quello può diventare un problema. Quindi bisogna essere accorti, andare in campo e fare delle osservazioni precise, perché questo è il modo. Gli strumenti, però, per fermare, ce li abbiamo. Perché abbiamo dei prodotti già citati prima, per esempio il bacilli di Storingensis, che è molto attivo su queste larve e ha un periodo di sicurezza molto, molto breve. Quindi gli strumenti per controllare ce li abbiamo. Davide? Esatto. Le caratteristiche di un nuovo prodotto era riassunto in una delle mie ultime slide che ho mostrato nel mio intervento, dove si faceva dire che sulla terza generazione si poteva applicare un Radian Pro seguito da un'applicazione o anche due di bacilli di Storingensis. Quindi prodotti che hanno breve tempo di carenza, se parliamo di Radian abbiamo solo sette giorni di carenza, quindi possiamo arrivare fino sotto raccolta e poi un prodotto come il bacilli, un prodotto naturale, di conseguenza non abbiamo tempi di carenza da rispettare. Ho un'ultima domanda arrivata in questo momento per Andrea. Quali sono le strategie, secondo Corteva, per evitare l'insorgenza di resistenza a Zorvec della Peronospora? Speriamo non succeda mai questo, perché è un'innovazione. Assolutamente, però comunque è un rischio, è un rischio che è tutt'altro che banale, visto che comunque abbiamo visto che le resistenze a fungicidi ogni tanto accadono. i meccanismi migliori per evitare, insomma le strategie migliori per evitare l'insorgenza delle resistenze e innanzitutto non usare mai il prodotto da solo e in questo senso le miscele pronte ci vengono anche in aiuto sotto a questo aspetto, bilanciando bene le componenti dei due principi attivi, applicare il prodotto in blocco di trattamenti rispetto ad applicazioni alternate, rispettando anche gli intervalli tra i trattamenti e cercando appunto di intervenire preventivamente, come si diceva anche nell'intervento con Gabriele. Evitiamo di essere in rincorsa, visto che comunque la pernospora è un fungo che entra dentro la pianta e poi è difficile da tirar fuori. Grazie Andrea. Bene, siamo direi arrivati alla conclusione di questo webinar. Mi sembra che siano stati lanciati tanti spunti interessanti, abbiamo sentito parlare di cambiamenti climatici, parole come prevenzione, monitoraggio, sono temi fondamentali nella gestione della difesa della vita. Abbiamo parlato di innovazione, abbiamo parlato di strategie di difesa e quindi abbiamo fatto un percorso su quelle che sono le problematiche che i viticoltori si troveranno ad affrontare nella prossima campagna. Io ringrazio i nostri relatori che sono qui in studio con me, Enrico Marchesini, Davide Vitali, Gabriele Posenato e Andrea Angeli. Ringrazio tutti voi che siete rimasti connessi fino ad ora e vi auguro una buona serata. Grazie a tutti.